San Paolo Saurini tra le altre cose anche mister dal 2012 al 2017 della primavera del Napoli mister buon pomeriggio e ben ritrovato grazie per aver accettato l'invito di Radio Napoli Centrale. Buon pomeriggio a voi. Ciao mister buon pomeriggio e si parlava di formazioni probabili formazioni idee come la vedi questa doppia sfida alla Lazio? Conte farà riposare qualcuno farà riposare tanti che ti aspetti? Secondo me mi aspetto un massiccio turnover anche perché la rosa del Napoli è comunque larga e competitiva chi ha giocato poco secondo me giocherà la partita di Coppa e in campionato torneranno i titolarissimi. È evidente che per gestire questo tipo di situazioni si ha bisogno di tutti. Il Napoli quest'anno a mio parere ha un grosso vantaggio che non fa le Coppe europee e quindi queste sono le occasioni per chi gioca meno di mettersi in evidenza. Entro nel dettaglio ma secondo te è un'imprudenza cambiare entrambi i difensori centrali per esempio e partire con Juan Jesus e Rafa Marin qualora dovesse essere questa la scelta? Ma no secondo me non è un'imprudenza assolutamente come detto e ribadisco il Napoli ha ha una rosa molto competitiva è naturale che magari chi gioca meno ha anche qualche problemino in più a livello di di forma e a livello di di intensità fisica però queste sono le partite eh che devono assolutamente eh giocare perché altrimenti se no non troveranno poco spazio anche perché come detto il Napoli quest'anno non fa le Coppe europee quindi eh a mio parere questa è un'occasione per chi per chi gioca meno di rimettersi in evidenza. Anche perché poi penso che se dovesse aver bisogno a campionato in corso di questi giocatori eh devi lanciare dei messaggi cioè far capire che loro sono dentro al progetto e non per trovarli carichi poi quando ne hai bisogno. Assolutamente sì ma io non ne ho non ho nessun dubbio questi sono giocatori dei professionisti esemplari giocatori veri e quindi eh credo che all'occorrenza si facciano trovare assolutamente assolutamente pronti e siamo ancora nella prima diciamo quasi a metà a metà strada del campionato e e secondo me la la seconda metà sarà fondamentale per poi arrivare a primavera dove si decideranno i giochi. Mister io approfitto della tua competenza in quanto allenatore proprio perché noi spesso noi discutiamo tra giornalisti da con lei che ognuno ha la sua idea ma Raspadori è davvero così difficile da incastrare nel discorso tattico del Napoli o si può fare qualcosa per dare più spazio a questo giocatore? Ma Raspadori per me è un un ottimo un ottimo giocatore secondo me eh se fossi lui naturalmente eh io cercherei di trovare di trovare più spazio nel Napoli secondo me quest'anno è abbastanza chiuso quindi eh dipenderà da lui se vorrà rimanere eh diciamo a ai margini qui per poi magari risultare determinante nel momento in cui eh ce ne fosse bisogno o se eh vorrà trovare più continuità e andare a giocare da da qualche altra parte però io credo che nel disegno tattico del Napoli Raspadori faccia un po' fatica quest'anno. E un altro giocatore che mi incuriosisce è Neres che a me sembra fortissimo eppure trova pochissimo spazio. Ma Neres ha trovato pochissimo spazio perché in questo momento i due esterni sia Pulitano che Carrascheglia stanno facendo eh molto ma molto bene quindi eh difficilmente un allenatore eh cambia dei giocatori che sta che risultano determinanti. Il Napoli è primo in classifica sta giocando bene sta ottenendo grossi risultati è evidente che che Neres comunque secondo me è la prima il primo a subentrare e se dovesse succedere che qualcuno ha un appannamento che una una squalifica un infortunio Neres è quello che che subentra automaticamente questo questo sicuramente sì e d'altronde le annate le belle annate comunque vengono fuori anche da incastri favorevoli. Quest'anno il Napoli anche a livello di infortuni ha avuto poche niente quindi credo che che anche questo abbia influito molto nel nel sul fatto che Neres abbia giocato poco fin ad ora. Oggettivamente il Napoli sembra nato su una sotto una buona stella in questa annata perché non ha le coppe ha rinforzato la rosa ha preso un grande allenatore sta andando bene primo in classifica ma secondo te il Napoli può veramente lottare fino alla fine per lo scudetto? Ma io non è la prima volta che lo dico per me il Napoli ha un organico e ha una struttura assolutamente di primo ordine a mio parere il Napoli non può più nascondersi Napoli deve assolutamente cercare di lottare fino alla fine per portare a casa il massimo che possa esserci a mio parere lotterà fino alla fine per il primo posto poi dopo è evidente che all'inizio del campionato gli obiettivi erano tornare tra i primi quattro perché ho i primi cinque che fai la Champions però diciamo che quello è l'obiettivo minimo era l'obiettivo minimo da raggiungere e l'obiettivo minimo ma arrivati a questo punto siamo quasi a metà a metà campionato il Napoli a primo e credo che che sognare sia lecito ti faccio un'ultima domanda poi ti libero secondo te per far sì che il Napoli possa davvero sognare fino alla fine in che cosa deve migliorare la squadra? ma io adesso ho visto una squadra abbastanza matura l'allenatore ha dato una struttura proprio di squadra compatta fare gol al Napoli è molto molto difficile davanti a giocatori che possono risolvere la partita in ogni momento quando gli attaccanti sono magari appannati esce fuori McTominay che è un giocatore che che comunque i suoi gol in un campionato li tira fuori io credo che il Napoli debba solo prendere ancora più consapevolezza e fiducia dei propri mezzi e poi se la giocherà fino alla fine è evidente che le altre squadre sono comunque alla stessa altezza forse l'Inter è pure qualcosina in più però magari le coppe ti possono togliere qualcosa e il camp si chiude io ti ringrazio mister per la tua disponibilità e per il tuo intervento hai arricchito un calcio alla radio e allora grazie a Gianpaolo Saurini ex allenatore della primavera del Napoli noi lo conosciamo soprattutto per questo grazie mister grazie a voi a presto buon pomeriggio buon pomeriggio anche a te buon lavoro e noi rientriamo in studio Mario dove ci siamo